Salvato il soldato Bergdahl. Non è il titolo di un altro colossal di Steven Spielberg, ma il lieto fine per il sergente americano Bo Bergdahl, tornato a casa dopo cinque anni nelle mani dei talebani di Afghanistan. Il trasferimento è avvenuto dopo una settimana di intense trattative con la mediazione del governo del Qatar. In cambio, Washington ha garantito la liberazione di cinque detenuti del carcere di Guantanamo, a Cuba. Si tratta di un fatto epocale, non tanto per il risultato, quanto perché l'America ha sempre affermato di non trattare con i terroristi. Questo scambio riconosce ai talebani il ruolo dei combattenti, una novità nella politica estera USA. L'uomo, tenuto prigioniero dal giugno 2009, sembra in buona salute. Deve passare da Bagram, la principale base americana in Afghanistan, prima di poter far ritorno negli Stati Uniti. Il suo rapimento è sempre stato un mistero. I talebani lo avrebbero catturato mentre stava lasciando la base, unico americano insieme ad un gruppo di locali, e pare fosse ubriaco. Non si sa se gli scambi di prigionieri fra Guantanamo e l'Afghanistan continueranno.